Come primi piatti abbiamo... Ciuppa di ferro, minestri in bromo, minestronzio, tortellurio e funghi triossidati. Ora chietro il cibi di radio, dica tutto per sette stati, glielo consiglio, è veramente tenerissimo. Risotto ai frutti di rame, spaghetti allo scandio, estratto da torvertite, non teniamo nulla di presenza di natura, tutta roba artificiale. Penna alla carbonata, penna alla radiata, spaghetti aglio-yoti e peperoncegno. Penna alla carbonata, penna alla radiata, spaghetti aglio-yoti e peperoncegno. E litri di acqua ragia, e litri di acqua ragia, e litri di acqua ragia. Ci dovete per forza brindare a vomitare oro. Ci dovete per forza provare a vomitare oro. Ci dovete per forza provare a u, a u, a u, a u, a u. U di secondo, cotretra, manganese, uovo sodico, vetro l'acetato con contorno di selenio, petto di polonio, ossidibuche, frittino, olio di semi, di grasodio. Glorata al forno, Germania reale, cromini alla piastra serviti col mieglio. Glorata al forno, Germania reale, cromini alla piastra serviti col mieglio. E litri di acqua ragia, e litri di acqua ragia, e litri di acqua ragia. Ci dovete per forza brindare a vomitare oro. Ci dovete per forza provare a vomitare oro. Ci dovete per forza provare a vomitare oro. Ci dovete per forza provare. Ci dovete per forza provare. Ci dovete per forza provare. Anche voi.